Decidio, partiamo dall'intervista a Sandro Mariani. Sandro Mariani ha detto che il sindaco è ora che inizi a governare e amministrare, anzi a cambiare passo dell'amministrazione. Prendo atto delle dichiarazioni del consigliere Mariani, peraltro gli faccio anche gli auguri, è stato rieletto con una stragrande maggioranza di consenso. Problemi interni al centro-sinistra, se dice di cambiare passo un consigliere eletto del Partito Democratico, evidentemente quelle criticità che anch'io pagatamente ho fatto emergere nel Consiglio Comunale sono palesi sotto gli occhi di tutti. Anche voi avete dei problemi, perché comunque Valdo di Buonaventura con 2000 voti, candidato in azione per azione da indipendente, pare che sia in odore di defenestrazione. Ma io non penso che questo sia un argomento all'ordine del giorno. Io ringrazio Valdo come ringrazio tutti e sei i candidati della lista di azione. Risultato strepitoso, abbiamo preso il 4% a livello regionale, il 7% a livello provinciale, il 9% a Teramo città e penso che il contributo enorme che l'assessore di Buonaventura ha dato ha consentito a questa provincia di fare 4 a 2. Se dovesse essere lui uno degli assessori fuori dalla giunta d'Alberto? Ma questo è un problema all'interno della giunta d'Alberto. Io ripeto, non penso che sia l'ordine del giorno, perché gran parte della cittadinanza terramana non comprenderebbe queste logiche. Quindi lei che giudizio ha attualmente dell'amministrazione d'Alberto? Quello che ho ribadito più volte in Consiglio. Ci sono delle cose che mi sono letteralmente distanti, delle criticità che emergono di volta in volta in questa città, a cominciare dal problema dei parcheggi, a cominciare dal Pums, a cominciare da un decadimento del centro storico. Poi quando si sono trovate delle convergenze, io ho ritenuto che alcune determini, alcune delibere che andavano votate perché erano per il bene dei cittadini, il sottoscritto non ha mai fatto mancare il suo appoggio. Ma c'è una distanza su punti che io ritengo importanti per la città che non è stata ancora colmata. Peraltro io non siedo tra i banchi di maggioranza e non partecipo alle azioni di governo di questa amministrazione. Però lei faceva parte del patto d'Abruzzo insieme a Gian Guido d'Alberto. Quindi un punto in comune l'avevate o l'avete? Il punto in comune, ci tengo a ribadirlo, è stato il candidato presidente Luciano Namico. Il patto per l'Abruzzo ha funzionato perché due erano le garanzie. Una candidatura credibile e competente, quella dell'ex rettore Namico appunto, ed un programma realizzabile, credibile e misurabile che Azione aveva contribuito a scrivere. Ora, questo patto per l'Abruzzo purtroppo per una sommatoria di motivazioni, l'astensionismo, le liste e il voto organizzato del centrodestra con candidati molto forti che hanno gestito direttamente o indirettamente il potere, la mancanza del voto disgiunto. Io ho sempre tenuto che l'esperienza Sardegna non potesse essere praticata in Abruzzo. Unitamente tutte queste cose hanno determinato la vittoria e la riconferma di Marsiglio. Al di là del mirto del Carasau adesso, arriviamo a un toc toc. Se dovesse venire a bussare nella sua bella casa il sindaco D'Alberto e farla entrare in giunta, o per mantenere Valdo di Buonaventura, o perché no, tutte e due in giunta, perché adesso ci sarà questo famoso rimpasto prepasquale. Ma io penso che questa amministrazione, questa giunta, questa amministrazione di centro-sinistra non abbia problemi. I candidati che sono stati espressione della maggioranza di centro-sinistra sono stati tutti eletti. L'assessore di Buonaventura, ripeto, ha contribuito a far sì che quattro consiglieri di centro-sinistra potessero essere seduti, e lo ringrazio a cominciare dal nostro consigliere regionale, il mio pavone, sui banchi dell'assisi Aquilana. Io vedo una maggioranza piuttosto ben messa, coesa, cioè l'azione in questa fase può contribuire con delle idee, ma come contribuisce ritengo ciascun consigliere di opposizione. Che problema sarebbe Valdo di Buonaventura fuori dall'aggiunta? Ma è un problema, secondo me, del sindaco D'Alberto, non certamente un problema del consigliere di Giglio. È un problema che laddove fosse all'ordine del giorno, ma io ritengo che non sia... No, è all'ordine della notte, perché negli incontri serali si è parlato appunto di chiedere a Valdo di Buonaventura un passo indietro. Beh, insomma, io penso che la comprensione della cittadinanza sia restia, ripeto, a comprendere un accadimento del genere. L'assessore di Buonaventura ha preso più di 2000 voti, insomma, vabbè, poi sarà nella logica e nei pensieri politici del sindaco D'Alberto risolvere, ammesso che ci sia il problema di Buonaventura. Si può dire che con 2000 voti Valdo di Buonaventura è blindato? È intoccabile? In politica mi sto accorgendo che gli intoccabili e i blindati non esistono, però ritengo veramente una scelta, ma lo dico con contezza, una scelta, ripeto, non popolare, illogica, dover porre fuori dall'assiste di governo della città, un assessore che, peraltro, a mio giudizio, del Banco dell'Opposizione io sempre l'ho dato.